Hello, bentornati all'ascolto. Allora, la lezione 4, come vedete, finisce il capitolo con una delle pagine più scure della storia di Francia, ma dell'Europa e del mondo in generale, perché quando si tratta di guerre religiose parliamo sempre di qualcosa di molto brutto. Quindi, i galvinisti, come vi dice, sono sempre più numerosi in Francia. Perché questo? Vi ricorderete senz'altro che Calvino aveva cominciato la sua predicazione in Svizzera a Ginevra e, come vi ricorderete senz'altro, avendolo appena fatto in geografia, Ginevra è al confine con la Francia, per cui è abbastanza naturale che il calvinismo si diffonda nelle zone di confine da Francia vicino a Ginevra. Per cui nel sud della Francia il calvinismo è sempre più diffuso e in Francia i calvinisti assumono il nome di Ugonotti e hanno, come vedete messo in evidenza qui, sempre stretti legami con la chiesa calvinista di Ginevra. Il re di Francia, essendo da sempre un fervente cattolico, lì contrastava duramente, vedete qui è sottolineato, perché temeva che le divisioni religiose non giovassero al suo governo della Francia. Va bene? Morto Enrico II in un incidente di torneo, questo vuol dire che giocando alla guerra, vi ricordate l'anno scorso i tornei le giostre erano delle occasioni per i cavalieri per dimostrare le loro capacità, per cui simulando la guerra. Il re di Francia Enrico II morì veramente nel 1559 e divenne re suo figlio Francesco II che aveva solo 15 anni ed era il marito di Mary Stuart che abbiamo visto nel capitolo precedente. Ma anche lui morì giovanissimo solo dopo un anno di regno. Maria Stuart, vi ricorderete, torna in Scozia e in Francia sale al regno il fratello Carlo IX che aveva solo dieci anni, per cui assume la reggenza del regno Caterina dei Medici che, come è evidente dal nome, era un'italiana che aveva sposato il re di Francia, veniva dalla famiglia fiorentina dei Medici e si trovò ad affrontare una situazione molto particolare. Quindi in Francia la fazione protestante era sempre più forte e la nobiltà si divise in due praticamente. C'era una fazione cattolica guidata dalla famiglia dei Guisa e quella protestante, come leggete dal libro, era guidata dai Coligny e i Borbone di Navarra. Caterina, cercando di preservare il potere del figlio, cercava di barcamenarsi un po' da una parte e un po' dall'altra, cercando di metterli uno contro l'altro, ma insomma alla fine cercò di portare alla pace queste fazioni con l'editto di Amboise del 1563 concedendo una limitata libertà di culto ai protestanti ugonotti. Ma le due fazioni continuarono a scontrarsi e il culmine di questi scontri si ebbe nella famosa Uffa Migerata, purtroppo notte di San Bartolomeo, fra il 23 e il 24 agosto del 1572. A Parigi si doveva celebrare il matrimonio di Enrico di Borbone, capo della fazione ugonotta, con la sorella cattolica del re. Questo doveva servire a portare pace fra le due fazioni, ma in verità nella notte si scatenò una caccia all'uomo da parte dei cattolici contro gli ugonotti e si fu una strage della notte di San Bartolomeo. Qui avete un'immagine molto famosa che rappresenta questa brutta pagina della storia e quindi cercate di, diciamo, approfondire la cosa con questa semplice attività, velocemente, qui ci sono le risposte, quindi cerco di farle sparire, ok? Quindi, dopo questa brutta pagina di storia del 1572, Carlo IX, pure lui, morì giovanissima, un altro figlio di Caterina, il Duga d'Angion, diventa re con il nome di Enrico III, ma le lotte sono sempre più forti, quindi avremo una lega cattolica guidata da Enrico di Borbone, cioè da Iguisa, e Enrico di Borbone invece guidò i protestanti. La situazione qui viene fatta molto breve, ma fu molto complicata, quindi dopo anni di lotte tra queste fazioni si cercò di trovare un compromesso e Enrico di Borbone, capo dei protestanti, ebbe l'occasione di diventare re a condizione di diventare cattolico. Ovviamente accettò questa condizione con la famosa frase di cui abbiamo parlato prima, Parigi val bene una messa, e quindi divenne lui il re di Francia nel 1589, creando una nuova dinastia, il Borbone, che regnò per lunghissimo tempo in Francia, ecco qua, fino al XIX secolo, quindi arriva alla rivoluzione francese e anche oltre. Diventa quindi Enrico IV, rinuncia solennemente al calvinismo, si dichiara fedele alla Chiesa cattolica, però non si dimentica che veniva dalla fazione ugonotta, per cui, diciamo, favori anche, diciamo, la libertà di culto per gli ugonotti francesi. Lo vedremo più avanti, in questa occasione qua. Enrico IV, diciamo, fra le cose che fa, dichiara anche guerra alla Spagna, perché fra Francia e Spagna la situazione è sempre di costanti scintille, ok? Quindi nel 1595 c'è una nuova guerra fra Francia e Spagna e va avanti per un certo periodo, ma la Spagna, diciamo, prevale e il re di... cioè la Francia prevale, scusate, quindi il re di Spagna è costretto a firmare la pace di Verben nel 1598, ok? Qui lo potete leggere più approfonditamente, ora vi faccio solo compagnia nella lettura del libro. Abbiamo il famoso Editto di Nantes, ok? Nel 1598, in cui Enrico IV dà alcune libertà agli ugonotti francesi, gli concede alcune piazzaforti dove loro possano, diciamo, essere libri di professare la loro fede. Il più famoso è la cittadella di La Rochelle. Molti ugonotti con Enrico IV, diciamo, parteciparono anche all'amministrazione del regno. E, per finire, Enrico IV cerca di rafforzare e modernizzare lo Stato francese, ok? Cosa dice qua? Lasciò tanti privilegi alla grande nobiltà, ma cercò di ridurne l'influenza politica e si, diciamo, si circondò di nobili meno importanti affidando a loro gli incarichi amministrativi statali e rendendo questi incarichi ereditari, per cui questa piccola nobiltà divenne sempre più importante e più ricca e i nobili avevano i privilegi, i nobili di grande storia, i privilegi di non pagare le tasse, ma in questo modo non disturbavano il potere del re, ok? Uno dei primi ministri più importanti, il primo ministro più importante di quel periodo fu il duca di Solli che, come vedete, era Ugonotto, ecco qua, e ebbe l'idea di risanare il bilancio con la vendita delle cariche pubbliche e promosse commerci interni e quelli oltreoceano e quindi si dà anche via alla colonizzazione francese dei territori del Nord America, del Canada e delle Antille. Qui abbiamo una mappa concentuale che vi riassume tutto. In che modo Enrico IV ha rafforzato la Francia e l'economia francese, aumentando i privilegi della grande nobiltà, ma contemporaneamente diminuendo il potere politico, ok? Ha una vittoria contro Jasburgo d'Austria, poi l'amministrazione dello Stato viene affidata alla piccola nobiltà e uno di questi metodi è la vendita delle cariche pubbliche, quindi chi voleva diventare ministro o amministratore di qualcosa che aveva a che fare con la gestione del regno pagava e poi, diciamo, usufruiva dei vantaggi economici di questa carica. Quindi ottenne un riassestamento delle finanze e, diciamo, creò la potenza coloniale francese, promozione dei commerci interni e oceanici arrivando alla colonizzazione di Canada e Antille. Quindi la Francia, diciamo, assume un ruolo sempre più importante nello scacchiere europeo, la fine delle guerre di religione giova molto alla gestione dello Stato, tanto che Enrico IV pensa che è anche il momento di riprendere la lotta contro gli Asburgo di Austria e di Spagna, ma nel 1610, quando sta per dichiarare questa nuova guerra, viene assassinato. Ancora una volta l'erede è minorenne, Luigi XIII ha solo nove anni, quindi ancora una volta abbiamo una regina di origine italiana, Maria de' Medici, diventa la reggente, quindi è lei a diventare praticamente regina di Francia, ma Maria de' Medici, essendo come tutti gli italiani ferventa e cattolica, rovescia le alleanze fatte dal marito, quindi ogni intesa con i protestanti tedeschi viene troncata, si riavvicina alla Spagna da sempre, diciamo, rappresentante della passione cattolica e ottiene l'appoggio dei nobili di corte che desideravano che la Francia tornasse a essere cattolica. Gli ugonotti ovviamente si allarmano, si preoccupano e il dissidio, diciamo, tra nobili e borghesia diventa sempre più importante, come vedete, per cui la situazione torna a essere abbastanza complicata, ok? Come vedete qua, quindi è sempre un avanti indietro, come vedete la storia. Qui vedete la diffusione degli ugonotti in Francia in questa cartina qui, province cattoliche in arancione, provincia maggioranza cattolica in giallo e abbiamo, diciamo, le piazze forti degli ugonotti sono queste qua, ok? Provincie neutrali. Come vedete in giallo, scusate, non sono stato preciso, ma insomma. Andiamo avanti. Per finire abbiamo un breve paragrafetto dedicato alle nazioni dell'Europa dell'Est, ovvero Polonia e Russia fondamentalmente, e a quelle dell'Europa del Nord, Danimarca e Norvegia. Brevemente viene detto che la Polonia crea, diciamo, si stabilizza un po', la monarchia, viene fatta una breve storia, la monarchia in Polonia, inizialmente era, la Polonia inizialmente era una confederazione di Polonia e Lituania, quindi una confederazione polacco-lituania, la monarchia non era ereditaria, il re veniva eletto e non aveva un effettivo potere come l'imperatore, perché il suo potere era soggetto alla nobiltà locale, va bene? E invece in Russia lo zar Ivan IV, poi passato alla storia come il terribile, riuscì a, diciamo, ad avere un potere sempre più importante e a prevalere sulla nobiltà russa, quindi si circondò di nobili a lui fedeli, combatté l'antica aristocrazia, il termine russo è boiari, e lo fece, come vedete, con persecuzioni feroci ed esecuzioni di massa, che gli valsero ovviamente il soprannome di Ivan il Terribile, ovviamente il re di Russia si chiama Zar, come dovreste sapere, quindi dopo Ivan il Terribile abbiamo Michele Romanov, che fonda la dinastia dei Romanov che durò fino alla rivoluzione russa nel XX secolo, va bene? In Danimarca e Norvegia vi viene messo in evidenza come va al potere il re Cristiano IV Oldenburg, in Svezia abbiamo invece Gustavo Adolfo Vasa, sovrano svedese, ma insomma questo ve lo leggete brevemente, è importante soprattutto Ivan il Terribile, perché insomma è stato fondamentale per la storia di quella nazione là. Qui finisce il capitolo mettendo in evidenza l'importanza della libertà religiosa che è stata un po' protagonista delle guerre di questo capitolo qua. Quindi nel XVI secolo la libertà religiosa non è mai esistita, come si parla al massimo di tolleranza e le guerre religiose sono state all'ordine del giorno purtroppo. Oggi la situazione dovrebbe essere migliorata, cioè la maggior parte dei paesi nella Costituzione riconoscono la libertà di religione. La Costituzione italiana, come vi ho più volte detto, ha il famosissimo articolo 3, tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione, opinioni politiche e tutti hanno, secondo l'articolo 19, il diritto di professare la propria fede religiosa, ok? Purché non si tratti ovviamente di diritti contrari alla legge o al buon costume, ne abbiamo parlato già altre volte. Il libro vi mette in evidenza che non in tutto il mondo la libertà di religione è stabilita per legge. Quindi se volete diciamo approfondire questa questione qui vi fa solo che bene. Quindi ovviamente per giovedì assegnerò sia a seconda D che a seconda E le pagine che arrivano a pagina 79, da dove aspetta, torniamo velocemente indietro, da 74 a 79 e poi farete anche gli esercizi che concludono il capitolo. Lo troverete sul registro elettronico, ecco qua, faccio sparire subito perché ci sono le risposte, gli esercizi dalla pagina 80 a seguire, ok? Vi saluto, buon lavoro!